Sono felice di questa iniziativa, è una cosa conveniente ed è divertente, penso. Vedremo come sarà là dentro. Genova è la prima in cui si fanno questi eventi. Forza Genova! Siamo tutti contenti. Abbiamo avuto l'idea di fare dei pomeriggi principalmente per i minorenni senza vendita di alcolici. Abbiamo voluto riaprire la discoteca pomeridiana per i giovani, senza alcol e senza tavolate diciamo. Mi chiamo DJ Nas e l'idea è nata per creare un sabato pomeriggio alternativo per i giovani, attualmente che a Genova non esiste, che sarebbe esistita anni fa. L'idea è creare proprio una generazione pulita. Niente alcol, zero proprio, basato molto sulla musica e divertimento. Che magari un posto di aggregazione dei giovani, al posto di andarsi comunque in giro o perlomeno andare ad altri posti che non vanno bene, almeno i genitori sono tranquilli, che i loro figli sono in un posto più protetto. Tutto sommato chiediamo una carta di identità di ingresso, facciamo dei controlli generici dentro il locale, guardaroba obbligatoria. Tutto sommato cerchiamo di far socializzare i giovani al posto di stare connessi sempre al telefono o a internet. Comunque la musica aiuta molto a socializzare, cercare proprio di creare una generazione più, sperando sia una generazione comunicativa. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio